Bene, Silvia Cicciovino e Riccardo Salomone sono portato su in montagna, quindi l'area che abbiamo respirato è area di alta montagna, scendiamo a Valle dove mi porta il tema che mi è stato assegnato, il ruolo degli enti bilaterali. Io per la verità ho corretto a modo mio il titolo aggiungendo il ruolo istituzionale degli enti bilaterali che ci presenta un sindacato o parti sociali che svolgono una parte, una funzione diversa da quella loro abituale, quindi non è il ruolo conflittuale rivendicativo ma è quello partecipativo. Sono chiamati quindi a svolgere delle funzioni pubbliche ad essi delegate dallo Stato, a volte in autonomia, a volte in concorso con altri soggetti, comunque si tratta di funzioni pubbliche. E la dimostrazione che si tratta di funzioni pubbliche è data anche da un lato da un finanziamento pubblico che sovente confluisce nelle casse degli enti bilaterali, dall'altro lato anche dai controlli ai quali gli enti bilaterali vengono assoggettati, dei quali poi vi darò conto. Diciamo che il discorso possiamo svilupparlo intorno a due quesiti, a due domande. Chi e cosa? Quali sono gli enti bilaterali legittimati a svolgere queste funzioni pubbliche? E che cosa? Quali sono poi le azioni, le misure con le quali questi soggetti si vanno a confrontare? Il primo quesito è un quesito decisamente impegnativo perché ci riporta un po' al discorso che ha fatto, al bel discorso che ha fatto Silvio Aciuccio Vini, il problema della scelta del criterio selettivo. In tema di contrattazione collettiva il tormentone è il contratto leader, adesso io mi piacerebbe intervenire sul discorso che ha fatto Silvio, ma non ho il tempo per farlo. E si ripropone o si potrebbe riproporre per gli enti bilaterali lo stesso problema. Quali sono gli enti bilaterali che hanno titolo, che sono legittimate a svolgere quelle funzioni. E devo dire che sul tema ha preso posizione negli ultimi tempi, non di recente perché il discorso risale già al 2018, l'Ispettorato nazionale del lavoro. Lo ha fatto in relazione ad una delle attività che l'ente bilaterale può svolgere, che è quella certificatore. E lo ha fatto, a mio parere, utilizzando un armamentario sbagliato, errato, cioè quello che utilizza quando appunto va a discutere, si va a discutere di contratto leader. Quindi sostanzialmente l'Ispettorato del lavoro, nel rispondere a una serie di quesiti pervenuti, ha detto, occhio, quando mettete in mano i contratti certificati, la verifica preliminare che dovete fare è quella di chi ha certificato il contratto. Perché ci sono gli achiamati, gli appellati, pseudo enti bilaterali di certificazione che non hanno titolo a fare attività di certificazione, perché da quel punto di vista non passate alla valutazione della certificazione perché c'è una verifica a monte del soggetto che l'ha effettuato. Quindi anche per gli enti bilaterali si ripropone il problema della legittimità o della legittimazione a svolgere una determinata attività. Allora, io ho fatto una mappatura delle definizioni che la legge dà di enti bilaterali. Ovviamente sono partito da quella che io ritengo la norma madre, la definizione contenuta nell'articolo 2,1 lettera H del decreto 276. E lì la norma definitoria, quella appunto del decreto legislativo 276, richiama il criterio della rappresentatività comparata. Ho poi fatto una verifica con la definizione che degli enti bilaterali danno le singole norme che disciplinano i singoli fenomeni sui quali gli enti bilaterali mettono la mano. E devo dirvi che salvo qualche piccola eccezione, mi viene in mente la norma contenuta nella disciplina dell'apprendistato che fa un rinvio secco alla definizione del 276, diciamo che più o meno quella definizione è stata accolta e quindi nella definizione c'è anche il criterio selettivo con qualche aggiustamento, con qualche aggiusta. Adesso ovviamente non vi asfissio con il conto delle varie definizioni. Resta il fatto che i criteri selettivi sono tre. La rappresentatività comparata, numero uno, il rinvio a livello nazionale, numero due e il rinvio al contratto collettivo nazionale di lavoro. E allora la domanda che mi sono posto è se questo criterio selettivo che ripeto sono abituati a utilizzare in quella ardua operazione di individuazione del cosiddetto contratto leader possa valere anche per gli enti bilaterali. Perché mi sono posto questa domanda? Perché per gli enti bilaterali ci sono due profili che non riguardano la contrattazione collettiva. Sono due profili, due facce della stessa medaglia. Un finanziamento pubblico da un lato e soprattutto un controllo pubblico dall'altro lato. L'attività degli enti bilaterali è assoggettata a un pregnante controllo pubblico. Un controllo a monte quando si autorizza lo svolgimento di una certa attività, un controllo a valle quando si va a sindacare lo svolgimento di quell'attività. L'unica norma, l'unica ipotesi, l'unica attività che non è assoggettata a un controllo pubblico guarda caso riguarda proprio la certificazione dei contratti sui quali poi dirò qualche cosa. Quindi c'è un controllo pubblico sia ripeto a monte sia a valle che poi si collega, si combina al discorso del finanziamento pubblico e che secondo me non può non essere tenuto in considerazione quando andiamo a individuare qual è l'ente bilaterale che è legittimato a svolgere una determinata attività. E questo problema rispetto alla del lavoro lo ha affrontato in maniera assolutamente inadeguata, in maniera da tutto superficiale. Direi quasi che l'affermazione che si legge nella circolare del 2018 è un'affermazione tautologica senza considerare queste caratteristiche che tengono ben distinto il fenomeno del bilateralismo rispetto al fenomeno della contrattazione collettiva. Allora non sono qui per dispensare consigli, ma la mia opinione la posso esprimere. Possiamo accettare questo criterio identificativo della legittimazione a svolgere queste attività? Ecco la risposta al primo quesito. Sicuramente la risposta è no, non sono quei criteri che ci possono consentire o aiutare di risolvere il problema. Probabilmente il problema va orientato in una direzione diversa. Non chi fa, ma anche cosa fa. E noi sappiamo che degli enti bilaterali si parla poco, non c'è un'informazione sull'attività degli enti bilaterali. Diciamo che quello che si sa, lo sappiamo da Report, quella trasmissione angosciante del lunedì sera che ci mette al corrente di certe situazioni. E devo dire, se deve si valutare l'attività degli enti bilaterali, anche di quelli comparativamente più rappresentativi in base alle notizie che provengono dai rapporti di report, direi che il risultato è decisamente sconcertante. Tanto per capirci, nelle casse degli enti bilaterali circolano soldi a go-go e quindi è evidente che il maneggiamento di questi soldi potrebbe indurre qualcuno in tentazione. E mi fermo qui nella valutazione. Quindi alla risposta a chi ho dato la mia risposta, ritenendo totalmente inadeguata la risposta che ha dato l'Ispettorato nazionale del lavoro. La seconda, che cosa fanno? E qui diciamo che il discorso diventa più agevole sotto il profilo della problematicità, più complesso per l'articolazione del discorso. E allora le mission, o la mission se la vogliamo coniugare al singolare, degli enti bilaterali è ancora una volta individuabile nella norma definitoria. E' lì che il legislatore dice che gli enti bilaterali, sede privilegiata di regolazione del mercato del lavoro, possono svolgere una serie di attività. Le ho messe in fila e sono andato alla caccia delle disposizioni, della disciplina delle singole attività, perché poi alla fine dell'opera non possiamo prescindere dalla disciplina. Le altre valutazioni sono a volte valutazioni personali. E devo dire che l'elenco delle attività che possono svolgere gli enti bilaterali è un elenco davvero cospicuo. E sicuramente il primo profilo nel quale ci imbattiamo è quello della formazione professionale. Diciamo che anche qui quando assistiamo ai dibattiti sul mercato del lavoro, sulla disoccupazione, sui percettori della cittadinanza, la parola magica è la formazione. E' lo scudo dietro il quale si nascondono tutti coloro i quali vengono interrogati su questa problematica. A volte si nasconde senza sapere mani di che cosa si sta parlando. E se coniugamo la formazione professionale con gli enti bilaterali, la parola magica è quella di FIP, fondi interprofessionali paritetici. Poi fratellino minore dei FIP è il fondo per la formazione dei lavoratori somministrati, quello disciplinato nell'articolo 12 del 276. Allora quando io sento parlare dei fondi interprofessionali paritetici FIP mi viene sempre in mente la parola anche. Perché? Perché in quasi tutte le norme in tema di ammortizzatori sociali e di formazione professionale si dice si farà questo, si potrà fare quest'altro anche con l'intervento dei fondi interprofessionali paritetici. Sono i fondi dell'anche, anche attraverso i fondi. Fondi che hanno avuto un destino a volte singolare. Li ho paragonati in un certo momento storico a Salvadanaio, dal quale di notte il ragazzino col coltellino va a sfilare il soldino e quando poi a Natale si rompe a Salvadanaio non c'è più nulla. Perché una marea di risorse finanziarie appartenendo ai fondi interprofessionali sono state nel corso degli anni utilizzate per finanziare gli ammortizzatori sociali. Quindi una negazione direi quasi della mission dei fondi. Dovevano finanziare attività formative per disoccupati, per cassa integrate e invece il risorso sta destinato ad altri. Allora i due minuti che mi ha dato Maria Teresa, perché a me aspettavo la mezz'ora della cala fa, ma adesso stendo un vero pietoso, ovviamente ci porta al contatto con quella che è la ricaduta finale dell'attività dei fondi bilaterali, che è quella formazione professionale, mi limito all'elencazione, poi dopo se riesco scriverò qualcosa, attività della formazione professionale, gestione degli ammortizzatori tramite i fondi e soprattutto anche l'attività certificatoria, perché attraverso i fondi bilaterali viaggia un'attività di certificazione molto importante, ve li metto in fila, la certificazione della congruità occupazionale, la certificazione di regolarità contributiva e non ultima pura certificazione dei contratti di lavoro. Quindi all'entività bilaterale viene attribuita una funzione certificatoria di notevole rilevanza. Chiudo con un riferimento alla gestione del mercato. Ecco, se andiamo a rileggi, l'ho fatto, tutte le norme del 150 del 2015, ci rendiamo conto che quel coinvolgimento degli enti bilaterali nell'ambito della gestione del mercato del lavoro è un coinvolgimento fondato, serio, profondo. Quanto poi questo sia stato realizzato è tutto da vedere. Nel sentire il bel intervento di Riccardo Salomone mi è avuto in mente una storia che raccontava Franco Liso quando ha partecipato ad un incontro tra collocatori delle varie parti d'Italia ma anche di altri paesi e c'è stato il faccio a faccio con il collocatore danese e quello napoletano. Il collocatore danese ha detto noi in Danimarca facciamo la gara settimanale a chi riesce a collocare più velocemente i soccupati nell'arco della settimana e quindi io due giorni, Maria Teresa tre giorni, Riccardo quattro giorni. Quando ha finito di parlare il collocatore ha detto due giorni, tre giorni, qua ragioniamo per anni, la gara si fa ma l'unità di misura nel giorno benzi l'anno. Questo appunto per farvi capire perché prima ho detto dalla montagna scendiamo sulla faccia della terra. Grazie. Grazie.